Lo Stato siamo tutti noi, insieme con gli altri, senza esclusione di nessuno. L'Italia ha bisogno di un confronto costruttivo e l'interesse del Paese è quello di affrontare i problemi complessi, economici e sociali che, in questa fase di crisi, meritano la massima attenzione e devono avere priorità assoluta. Il nostro compito è quello di consegnare a voi giovani un'Italia moderna, efficiente, che riesca a dare risposte alle vostre domande, prima fra tutte quella sul vostro futuro lavorativo. Per questo l'Italia deve cambiare, deve realizzare le grandi riforme, lo deve fare senza incertezze, senza pregiudizi, senza preclusioni e auspicabilmente con il consenso di tutte le forze parlamentari e sociali del Paese. Non bastano il capitale economico e il capitale umano per lo sviluppo di una nazione. Abbiamo bisogno di coesione, di stabilità, di condivisione. A voi giovani guardiamo con fiducia e con voi giovani il nostro impegno è innanzitutto un inderogabile dovere al quale cercheremo con ogni sforzo di non sottrarci. Grazie.